Tante tante novità e un'operazione indirittura d'arrivo, ben ritrovati amici rossoneri qui su Milanello, la casa del Milan e dei milanisti su YouTube, lasciate un like, iscrivetevi numerosi, fate iscrivere anche i vostri amici mi raccomando e che dire, buona serata, buon weekend, buon Milan, con ripeto un'operazione indirittura d'arrivo, adesso vi raccontiamo tutto, ci togliamo anche qualche sassonio dalle scarpe, Intanto ha parato Pioli, domani si gioca contro Juventus, Pioli che non ha mai potuto Allegri, ma domani deve essere la prima volta, speriamo, gara importantissima, detto che anche oggi ci saranno gare importanti, rapidissimamente, allora Ben Asser è a disposizione per domani, si è allenato, come detto, vediamo se dall'inizio o dalla panchina, in questo momento c'è un favorito su Bakayoko e su Ben Asser che è Krunic, però vediamo l'evoluzione della giornata e delle riflessioni di Mr. Pioli, dopodiché là davanti gioca Ibrahimovic, che a San Siro non segna da una vita, è stato chiesto a Mr. Pioli se è tentato da arretrarlo, cosa di cui avevamo parlato anche nei giorni scorsi, sulla tre quarti mettendo appunto Giroud avanti, l'ha detto non dall'inizio, a gara in corso vediamo, altresi detto che in questo momento dall'inizio o Rebic o Leao, personalmente ecco, stessa al 100% io farei giocare Rebic là davanti, però in questo momento è uno alternativo all'altro, a gara in corso poi le cose possono cambiare. Ha detto di aver visto in gamba, con una gambetta fresca e pimpante, Brian Diaz, speriamo, Brian Diaz che insomma è sempre un po' ultimamente un oggetto misterioso, speriamo davvero che possa tornare al gol domani, l'anno scorso segnò contro la Juventus, fece anche un bel gol e una bellissima prestazione. Per il resto, balottaggio tra Calabria e Florenzi con un 51% Calabria e 49% Florenzi, a sorpresa devo dire. Dopodiché, capitolo dedicato al mercato, attenzione, attenzione, intanto rientra Tonali fortunatamente, lo ricordiamo, attenzione a Teo che è diffidato, poi c'è il derby, bisogna stare attenti, oggi nell'Inter diffidati Lautaro, Martinez e Brozovic, non ho molte speranze che vengono ammoniti, gara contro un Venezia tra l'altro molto, molto, molto decimato. Oggi ha parlato Leao, ha detto sto benissimo qui, spero che resti anche Teo, io sto bene, vediamo, c'è quel sempre vediamo di troppo, ma bisogna andare a chiudere in tempi brevi. Adesso andiamo sull'operazione Milan, su Messias dice può essere trequartista, ma la posizione che predilige è quando parte da destra, appunto esterno destro, trequarti di destra, scegliete voi, cosa che avevo ampiamente capito che Pioni stesso ci aveva detto già quando era arrivato il giocatore dal crotone. Il passaggio, se ci sono le possibilità di migliorare l'organico, passaggio dedicato al mercato, se ci sono le possibilità di migliorare l'organico, il club si è sempre dimostrato ambizioso e pronto a cogliere le opportunità. L'infortunio di Tomori ci ha messo un po' in difficoltà, ma sono molto contento dei miei giocatori, Tomori tornerà presto, speriamo nel derby, lui ha messo nel mirino il rientro nel derby dopo la sosta, ma ovviamente ci sono ancora tra tante incognite e troppi punti di domanda. Il difensore resta l'obiettivo, ci risultano ancora speranze su Botman, non chiedetemi perché, nel frattempo però è addirittura d'arrivo un'operazione. Prima però un aggiornamento per quanto riguarda Julian Alvarez, che è stato un po' l'oggetto dei desideri inizialmente del Milan, che l'aveva mandato a seguire più volte e anche di noi tifosi rossoneri. Ebbene Julian Alvarez, che è stato visto da più squadre, in questo momento è in pugno al Manchester City, che alla fine, pensate, dovrebbe giudicarselo pagando solo 18 milioni di euro, con il giocatore che dovrebbe restare fino a giugno appunto al River. Personalmente, a maggior ragione a quella cifra, non mi spiego perché non l'abbiamo preso. Non so, forse come l'Inter ha fatto valutazioni non esaltanti sul giocatore, magari anche i nostri stessi non sono rimasti così estasiati, non lo ritengono ancora prontissimo per il campionato italiano, ritengono la cifra eccessiva. Di fatto, per come abbiamo visto il giocatore, abbiamo conosciuto, un giocatore che segna anche sbadigliando con gli occhi chiusi, sarebbe servito appunto come il pane. Ma il Milan vuole, in questo momento, andare a prendere un 9 fisico, un terminale offensivo, un vero e proprio numero 9. Sapete che Alvarez era un numero 9, barra trequartista, barra esterno di destra. Io l'avrei preso senza ma, ripetiamo, in questo momento è molto vicino al Manchester City di Guardiola. Poi sono curioso di vedere che tipo di percorso farà, sperando di non mangiarci le mani, così come non abbiamo mangiato le mani per altre operazioni. Allora, Pellegri. Pellegri, non per citarci a dolce, insomma un mese fa, un mese, qualche giorno fa vi avevamo detto, attenzione perché Pellegri potrebbe partire. Piace al Toro, lui vuole andare a giocare e il Milan è disponibile a farlo partire. Potremmo interrompere il prestito e farlo andare altrove in accordo con il Monaco. Poi il Milan ha considerato l'idea di riscattarlo, offrendo però 3 milioni e mezzo. La cifra patuita era 6, il Monaco ha detto no, quindi il Milan ha detto va bene, chiudiamo così il prestito. Il giocatore quindi dovrebbe andare al Torino in prestito, via però Monaco, non Milan. E quindi a quelli che, ripeto, rubo 10 secondi che ci criticavano, ma figurati lui resta perché Pellegri aveva detto cosa dicono, io voglio restare e anche altri colleghi dicevano che lui sarebbe restato. Bene, noi abbiamo detto che poteva andare via, così sarà e Milan prende un sostituto. In ogni caso su Pellegri abbiamo provato, mi aspettavo decisamente di più. Speravo che rientrando in Italia potesse tornare, poteva tornare a fare il giocatore. Invece ha giocato pochissimo, si è fatto male molte più volte e quindi finisce qui con una spesa che è stata comunque minima, un milione di prestito. Peccato, in bocca al lupo a lui, non sarà un giocatore del Milan. E sinceramente, con massima coerenza, vi dicevo anche che non ero d'accordo sull'idea di riscattarlo perché Aughe l'abbiamo riscattato, cioè Aughe l'abbiamo visto, poi l'abbiamo rivenduto. Con Pellegri io non ho visto nulla, quindi piuttosto quei 4 milioni, 5 o 6 che chiedevano loro li avrei investiti sul difensore. Cosa che faremo? Oppure la faremo, la facciamo per quanto riguarda un altro attaccante. Attenzione perché il Milan in questo momento è molto vicino a una punta, a un classe 2004. Tra qualche giorno, anzi domani, oggi è il 21. No, oggi, oggi, ragazzi, oggi, tanti auguri perché oggi ha compiuto 18 anni. Parliamo di Marco Lazetic, sconosciuto sicuramente ai più. È un giocatore serbo, alto 1,92, gioca nella Stella Rossa con cui ho incontrato in scadenza nel 2024. Ripeto, oggi è diventato maggiorenne e ha già dei numeri interessanti, delle esperienze interessanti. Intanto, 5 presenze e un gol nell'Under-19 serba. Non ha ancora fatto ovviamente il salto di qualità, oggi è 18enne fino a ieri era minorenne. Ha fatto però già una presenza in Europa League e complessivamente nel campionato serbo 14 presenze e un gol. In realtà 370 minuti e un gol, non è affatto male. Nella Youth League una presenza e due reti, quindi un gol ogni 45 minuti. Ha giocato anche 11 minuti nelle qualificazioni Champions, quindi anche da quel punto di vista un po' di esperienza. La presenza in Europa League sono 9 minuti soltanto. Comunque, ecco, viene considerata una delle stelle emergenti tra i giovani serbi e soprattutto della Stella Rossa che costruisce ogni tanto in casa anche dei buonissimi giocatori. Ripetiamo poi, lui era stato in prestito anche al Graficar con 14 presenze e 4 gol. 6 gol in 11 partite nella Stella Rossa Belgrado Under-19. 2 gol in 6 partite nella Stella Rossa Belgrado dell'UEFA Under-19. Viene considerato, ripeto, andiamoci cauti, in patria vedono, o meglio, lo vedono, ma io dico intravedono in lui il nuovo Olawich perché è connazionale. Anche lui è uno molto forte fisicamente, è alto, 1,92. ha ovviamente come caratteristica quella di segnare e gli uomini scout del Milan, soprattutto Moncada, ha trovato in lui delle caratteristiche interessanti. Secondo me è un'operazione, tra l'altro, ecco, alcune curiosità. Lui era stato molto vicino al Toro, ma il Toro aveva problemi per quanto riguarda gli extracomunitari e quindi alla fine prende Pellegri. Il Toro però ha sempre occhio, fiuta degli affari e questo secondo me è un indice in più di bontà di operazione se la mettiamo a segno. Detto che, tra l'altro, è nipote di Nicola Lazetich, che vi ricorderete, era stata la serba, tra le altre, in Italia, del Genova, del Chievo e della Lazio. Ripeto, è un'operazione che non sbagli mai, nel senso che ha caratteristiche fisiche importanti, è giovane, appena 18enne, viene considerato la stella emergente dell'Accademy della Stella Rossa, concedetemi questa definizione, e soprattutto sembra, anche nella Youth League, far vedere cose molto interessanti. Piuttosto che spendere 4-5 milioni per Pellegri, che purtroppo da due o tre anni è un ex giocatore e Almina non è riuscito a diventare giocatore, neanche tornando in patria, io dico che questa è un'operazione che si deve fare. Magari scopriamo anche noi non un Vlaovic, ma un attaccante di riferimento, che da adesso fino a giugno resterà a imparare, se arriverà, da Ibra e da Giroud. Ci dicono che dovrebbe essere comunque un attaccante per la prima squadra e non per la primavera, segno che c'è fiducia e ambizione attorno a lui. L'operazione dovrebbe essere appunto intorno ai 4-4 milioni e mezzo più percentuali di futura rivendita, si può arrivare a 4-5 milioni più percentuali di futura rivendita, che sono i soldi di fatto che avremmo destinato a Pellegri. Di fatto Pellegri no good, Lazetich magari può emergere e sono soldi che non si perdono. A me intriga, queste operazioni intrigano sempre, soprattutto se ci pensiamo abbiamo scovato Kalulu a 0 e Kalulu oggi comunque gioca in Serie A, quasi in pianta stabile, abbiamo scoperto anche altri giocatori. Se questo diventa un Kalulu dell'attacco, molto 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 bene. Poi è uno che ha una buona tecnica, ha un fisico importante, ripeto, 1,92, forte fisicamente, bravo nel gioco aereo, sono caratteristiche su cui ci si può ovviamente lavorare. Non è un giocatore finito, è un giocatore che va lavorato, va cresciuto, e se fa degli step chissà mai che scopriamo di aver preso un ottimo giocatore. Ripeto, c'è una base di accordo con la Stella Rossa, che dovrebbe essere perfezionata nelle prossime ore, al più tardi tra lunedì e martedì dopo la gara di domani. Marco Lazetich, sarà il nuovo Vlaovic? Magari, 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 magari. Poi vediamo insomma come va in questi mesi, se l'anno prossimo resta qui o lo facciamo giocare altrove per fargli fare un po' di esperienza. Sicuramente il numero 9 dell'anno prossimo che vogliamo, che il Milan vuole, non è Lazetich, però è quel giocatore in più, che secondo me è una cosa interessante. Andate a vedervelo un po', ci sono pochi filmati, più che altro Youth League, con i pari età, si è messo in mostra molto bene, ha giocato anche con compagni avversari anche più grandi. Ripeto, ha iniziato a fare anche un po' di esperienza a livello di prima squadra e anche di Europa League, seppur poco 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 sfiorata, ma non è affatto male. Quindi vediamo se si perfeziona. In questo momento, dunque, dovrebbe, potrebbe, dovrebbe essere Lazetich, il nuovo attaccante del Milan, che quindi, vedete, prova a sfruttare un po' le occasioni. Pellegri, alla fine, va via, non è dato come ci aspettavamo, come speravamo, e vediamo su Lazetich che cosa possiamo ricavare. Quelli serbi, poi, genio di sregolatezza, cattiveria, difficilmente poi non riescono ad ambientarsi, poi magari hanno i colpi di testa, però forza Lazetich se lo prendiamo, l'aggiornamento, magari nelle prossime ore. Ciao! Ah, vi rimando un video precedente, andate a vederlo, perché c'è un po' di imbarazzo, e anche attorno all'Inter. Ciao, iscrivetevi e lasciate il like!